L'immobiliare al tempo di Facebook, per alcuni nulla di più facile, tant'è che quest'oro blu è ricco di guru e specialisti di compravendita facile ed automatica. Tuttavia se sei un agente immobiliare dovreste avere qualche preoccupazione in più quando hai a che fare con Facebook, un contenitore ricco di promesse ma davvero difficile da sedurre. Ho scritto un post, agente immobiliare ecco perché Facebook non ti salverà, dove provo a dirti che cosa penso al riguardo. Tu hai già qualche idea in merito? Allora aspetti i tuoi commenti e se il post ti è piaciuto ricordati di condividerlo.